non ammirare vittorio veneto ma vieni a viverla scarica l'app previsione del tempo per martedì 15 novembre sul veneto tempo spiccatamente instabile una perturbazione raggiunge il nostro territorio al mattino alternanza di nuvole rasserenamenti con nebbie sparse sulla pianura col passare delle ore nuvolosità in aumento con cielo ovunque coperto precipitazioni da prima su rodigino in estensione via via anche al resto della regione temperature in calo minime sui 4 9 gradi massimo intorno agli 11 13 gradi sul frulli venezia giulia cielo in prevalenza nuvoloso con un po di sole al mattino e nubi più consistenti nella seconda parte della giornata non si escludono locali piovaschi temperature minime sui 6 11 gradi massimo intorno ai 13 15 gradi sul trentino alto adige la giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate altrove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità e nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia temperature minime sui 4 5 gradi massimo intorno ai 12 13 gradi dal meteo è tutto arrivederci non ammirare vittorio veneto ma vieni a viverla scarica l'app